Allora, sono completamente estraneo al mondo delle speedrun in qualsiasi gioco, non gioco a Minecraft seriamente da non so quanti anni, è cambiato tutto e volevo vedere come se la cava un abbetto, uno sfigato a provare un'avventura simile. Ecco qua, vedete, chiamo pure il mondo speedrun perché le cose le faccio per benissimo, difficoltando ormai lo sto già sbagliando a qualcosa, non lo so, creiamo sto mondo. Allora, fatemi pensare a un tempo che potrebbe essere il mio obiettivo, magari entro i 20 minuti, è un obiettivo molto umile, si può provare. Ok, metterò anche un timer come fanno tutti i speedrunners professionisti, salve tartarughina, posso cavalcarla? No, allora andrò a nuoto. Tranquilli, mi sono informato su come si fanno le speedrun, devo cercare un villaggio, giusto? Oddio, no ragazzi, ragazzi ma che fortuna, l'avete visto e ho caricato il mondo adesso. Ebbè, è vero, porca miseria, ho avuto un botto di culo. Madonna, ma come sono diventati i villaggi con le ultime versioni? Oppure da tipo 10 anni che sono così, non lo so. E adesso che devo fare? Allora, non saltare, idiota. Ma che serve sto coso? Vabbè, non lo so. No, che è successo? Non so stato io, eh, c'ho pure i semi di melone, possono essere utili. Dai che vado di fretta, devo fare 20 minuti, madonna, mi ha Ender Dragon tra 5 per fa... Oddio, è piccolino, perché è piccolino? Dio mio, mi serve l'Iron Golem, ma lo trovo in sto villaggio scrauso. Ci stanno i gatti, ma da quando? Vabbè, non lo so. Io so confuso un pochetto. Oh, una caverna, è utile. Allora, paia, penso sia utile la paia. Dai, dai, ok, ho ancora un quarto d'ora per poter fare il mio record mondiale. Personale, ok, iniziamo così, poi il prossimo obiettivo sarà quello mondiale. Ma che cazzo ero la... Ma cos'è? Eh? Questo forse è utile? L'Iron Golem, dov'è? Che... No, no, non voglio questo, oppure sì? Dammelo un po', va. No, ho fatto la cazzata? Eccolo l'Iron Golem, allora. So tutti i segreti dell'Iron Golem, lo devo colpire da due blocchi di altezza, giusto? Però prima devo craftare gli utensili, quindi spaccherò la casa di questo. Mi dispiace, ma non vedo alberi nelle vicinanze, quindi userò appunto la tua casa. Devo dire che sto invecchiando come del buon vino, eh. Veramente. Allora, scaviamo qui. Senti, per sicurezza salgo qua sopra perché io non mi fido di me stesso, ok. Calmo. Madò, stavo a salì. Gli stavo a fare la scala. Oh, che a te sei fatto? Puoi morire? Così devo fare? Per avere colpo più forte. Ok. Levate, te devi levà. Allora, vado di fretta, devo fare un record personale. Adesso, se non sbaglio, l'obiettivo è cercare la lava perché devo andare nel nether, giusto? Forse... Facendo così? Niente? Vabbè. Allora, ho trovato il carbone, non so se serve, ma io lo prendo. Allora, piccoletto, io te lo dico, stai per fare una brutta fine. Se non trovo la caverna in tempi ragionevoli, dov'è? Oh, tu che me segui, ma... Oh, levate. Ok, l'ho trovata, l'ho trovata. Ferro, dai. Il ferro è sempre importante. Allora, qui... Te prego, non salire. Sta salendo. Oh, oh, oh. Ma ragazzi, ma io sapevo che le speedruns sono difficili, ma non mi sembra. Oddio, ok. Potevi essere a morte mia, ma... No, non co... Dio. Oddio. Ragazzi, ma... Sbaglio sono abbastanza fortunato, ora non lo so, eh. Ok, e... Grazie. Sono oggetti importanti, penso. Io so, sincero, io non so come si fa il port... Ma a parte che è mezzo fatto, ma te lo godo. No, perché io mettermi a fare l'acqua e la lava, io non la so fare, però la dovrei fare... Porco... Ma che ne so che scotta sto coso. Sentite, fatemi andare a dormire, va? Ecco. Mezzo ai mostri. Non so come sto facendo, ma va bene. Ah, oh, ancora sto blocco traditore. Ma vattene via, ci posso fare trappole, è interessante. Più che altro io non ho ancora capito quanti blocchi mi mancano... Mi mancano solo due blocchi. Cioè, c'ho pure la flinta, ma quando ho presa la flinta? Manco mi ricordo. Mi sono un attimino informato, perché è importante fare anche queste cose e devo mettere l'acqua qui, giusto? No? Non mi sono informato molto bene, a quanto pare, scusami. No, ho fatto il casino. Se facessi... Oh, vedi che so forte? Allora, se ho sbagliato è un casino, perché... No, no, ho fatto tutto bene. Non avevo più la lava, in teoria. È finita la lava, giusto? Ok, però l'ho usata bene. Ma quando ho trovato l'accendino? Vabbè, ragazzi, non lo so, trovo le cose a sbuffo. Aglio, però aspettate, non sono così nabbo da non sapere che mi serve lo scudo. Come si crafta? Io non lo so. Oh, ma Minecraft è complicato. In teoria si fa così lo scudo. Penso sia la prima volta in vita mia che lo crafto. Ok. Tranquilli, so che è importante l'oro nel nether, perché è appunto importante per i nuovi pigmen. Ma se io mi faccio il casco d'oro, i pigmen mi attaccano? Io non lo so. Me lo faccio? No, non c'ho paura dei pigmen. Non è importante. No, non è vero, un po' di paura dei pigmen ce l'ho, quindi mi farò gli stivali. Allora, eh, regà, io, io... Oddio! Ma aspetta un attimo. Tutto a posto, ragazzi? Sembra di sì. Sì? Non so se è perché... Che cosa sta facendo... Che... Madonna, regà, come è diventato il nether? Oh, regà, non vi aspettate che premo F3. Io so vedere le cose che serve vedere per trovare le strutture, eh. Guarda quanto so tranquilli. Secondo me mi hanno preso per uno di loro. Forse è un'offesa. Forse sì, eh. Allora, qui c'è oro, che loro forse non l'hanno visto, ma me lo prendo io. Ma forse posso barattarlo con loro? Io so che si può barattare. Perché questo ha solo un orecchio? Senti, se lo faccio così, ti piace? Qualcuno piace? Oh, mi ha barattato veramente. Netherbrick, è forte? Senti, vado da questo che sta drippando il costume dorato e mi sembra una persona seria. Che ne pensi? Guarda, vieni qua. Non ce faccio, ma non so manco cosa farci. Perché c'è un pollo nel Nether? Mi scusi, mi sai non è posto per te, eh. Allora, vediamo un attimino se questa qui è una persona un pochino un po' più seria. Io so che danno le Ender Pearl. Oh, via. Oh, ragazzino. Via. No! Ho fatto la cazzata. Ho fatto la cazzata, sono andato di istinto. Tu mi colpisci? Ecco, non sono stato io, ti giuro, eh. Vabbè, senti, voglio andare in quel bioma là che non ci sono ancora mai stato in tutta la mia vita. C'è anche un Enderman. Madonna mia, quanti Enderman. Sai che sono utili? Gli Enderman mi mettono un po' paura, soprattutto perché non li affronto da veramente un botto di tempo. Ok. Oh, e mori? Sì, 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 cerco rogna, va bene. Oh, ecco. Madonna. Allora, questo nuovo bioma che ho trovato non è che mi faccia impazzire. Più che altro sto ancora cercando la cazzarola di fortezza. Ho soltanto sei Ender Pearl che non so se mi basteranno. Dovrei avere paura di questi cosi. Non so cosa sono. Madonna, che brutta situazione. Dai, ma come ho fatto? Madonna mia, che dolore. Ma perché? Perché? Che sta succedendo? Mio Dio! Finalmente, ammetto, ho perso forse più di 20 minuti a cercarla. Su questo non sono stato per niente fortunato, ma punto ancora il mio record personale. Va bene? Allora, e adesso? Cioè, io come ci arrivo? Ragazzi, è stata un'avventura tremenda, affascinante perché il Nether è molto, molto più bello. Dalle ultime versioni a cui io ci ho giocato. Dio mio, non voglio fare sta cosa. Allora, devo un brasà. Fatemi un brasà, per favore, fatemi salire. Bel suono, mi piace. Ascemi, sto qua. Eh sì, sto proprio qua. Aiuto! Eh, no, 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 no. Basta! Basta! Oddio! Regà, non va bene. Cioè, io ve lo dico. Che cosa dovrei fare adesso? Ah, pozione di resistenza al fuoco. Puè... Eh... Ma non si beveva questa? No, vabbè, regà. Scusate. Forse da sotto mi trovo meglio. Ho finito il cibo. Ho finito... No, 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 no. Allora, me ne vado, dai. Me ne vado, me ne vado. Devo tornare, ecco. Devo andare a quel portale. Qualcuno mi aiuti? Per favore. Non sto messo per niente bene. C'è tutto il sacrificio che ho fatto fino adesso. Il tempo record a niente male. Che sto guadagnando. Non lo voglio perdere così, va bene? Tra l'altro sono pure molto fortunato, mi sa. Tanto per cam... No, regà, mi sa... Oh. Ma che fanno? Non so se mi bastano, sai? Allora, aspetta. Uno. Due. Tre. E invece mi bastano per un peletto. Oh, dai. Uffa. E mo? Cosa faccio? Non è un hardcore, quindi posso fare questa cosa, ma perderò un bel po' di tempo. Non fa niente? Non fa niente, posso puntare comunque al mio record personale. Che stai facendo? Ho visto una cosa un po' strana, sai. Ok, penso di avere abbastanza cibo almeno per andare a recuperare le mie cose. Per fortuna nel complessivo non sono così lontane perché... Quei venti minuti li ho persi a girarmi intorno per colpa del mio senso dell'orientamento un pochino scarso. Ok, sono arrivato. Io come faccio a salire però? Oddio! Oddio, potevo andare peggio! Potevo andare peggio, dai. Però questo è un percorso tutto lineare, quindi me sparano dietro. Ok, per favore, vi prego. Dagli che le enderperle se so salvate. Me ne devo andare al più presto da qui e io non so ancora se questi blocchi valgono come ossidiana. Per favore, non moriamo come dei beceri idioti. Ok, come abbiamo già fatto. Ti prego... Oh, che cazzarola! Vai! Siamo finiti. È la fine, eh ragazzi, è la fine. Madonna mia, ma ce li ho ovunque. Ma come devo fare? Devo cercare una cassa, un qualcosa. Oddio! Madonna mia, non posso sopravvivere, veramente. Sentite, ho un piano migliore, va bene? Non vog... Aio! Non voglio cercare ossidiana perché non so neanche se la trovo, quindi me ne vado e basta. E vado al mio vecchio portale. Ovviamente devo andare dove sta il tizio. Sto con pochissima vita e non c'ho voglia di definire il cibo, madonna. Dai bro, vai qua. Vieni, prendi tutti sti cosi. Ossidiana, ossidiana. Mi sembra... No, non questa. Niente. Me dà le cazzate. Che mi ha dà... Ah, vabbè, un po' meglio. Che? Ah, oh, interessa... Porca miseria, che cazzarola? Ma che me punta questo? Ecco qua, che è successo? È successo qualcosa? Ho sbagliato? Scusatemi. Ok, allora, mentre tornavo a casa, in teoria adesso dovrebbe apparire il portale, eccolo lì. Ho capito perché è iniziato ad attaccarmi all'improvviso, semplicemente mi ero tolto gli stivali d'oro. Era una cosa che non avevo ancora ben chiaro, questa dell'indossare l'oro, adesso lo so. Non posso neanche più correre, porca miseria, ma che speed run è? Abbiamo le nostre 8 enderpearl, ma mi sa che adesso ci serve la roba del blazer, che mi sa che è obbligatoria. Vabbè, fa niente. Invece metto, adesso devo farmi un'armatura decente. Ok, finalmente ho avvistato la caverna, speriamo che un po' di ferro ce l'avrà, giusto? Non ne trovo neanche un po', ed è assurda sta cosa. Vi prego, carbone, 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 madonna. Qui dentro, carbone. Oh, raga, dai. Eh, ragazzi, ho trovato una piramide, penso. Madonna, è un seed abbastanza fortunato. Ho trovato un'armatura. Vuoi sai che questa forse mi serve? Ho trovato il ferro, madonna, sì. Ok, io ho anche le TNT, andiamo bene. Ho bisogno di ferro, che state facendo voi due? Morite, morite. Oddio, che mi è volata addosso. Oh, mamma mia, finalmente. E me ne posso anche andare, penso che siamo d'accordo che mi bastino. Allora, mi sono un attimino allontanato dalla savana. Non so cosa sia quella struttura, non lo voglio sapere, sinceramente. Questa qui è una speedrun e dobbiamo andare di fretta. Ma ho trovato i cavalli, stanno ovviamente nelle pianure, questo lo sapevo. Ok, sono pronto, posso andare finalmente nel nether e prendermi questi cazzarola di cosi, stecche dei beleize, come cazzarola si chiamano. Andiamo, Cionco. No, Cionco non è un brutto nome. Ah, che te fai, ma aiuto. Oh, non me fa male, tu devi entrare con me. Vabbè, dai, Cionco, lo so, te lo sei meritato sto nome. Anzi, fammi andare a dormire, non posso, me ne vado, semplicemente. Allora, adesso la nostra missione è molto semplice, non so se mi ha visto il tizio, forse no. Però se si accende forse è perché mi ha visto, giusto, sì. Dai, vieni qua, ma dove vai, dove vai? Allora, questi beleize sono un po' idioti perché sono tutti quanti caduti e danno soltanto fastidio adesso. Non posso neanche raggiungerli. Allora, devo caricargli. Dai, vieni qua. Bravo, non salire, non salire, maledetto. Ho trovato lo spawn, ma regà, non è che me la cavo molto bene, non so se si è notato. Ok? Non mi ha dato niente, eccolo invece. Allora, devo dire la verità, la situazione in questo modo è già un attimino più accettabile. Devo nascondermi, però non so come altro fare. Ne ho prese 8, ok, ne ho prese 8, semplicemente arrivo a 12, anche di enderpearl e poi posso andarmene da questo mondo infernale del cavolo. Alla fine ne ho prese 13, va bene così, me ne devo andare. Questi qui stanno qua sopra, io vado per di qua e faccio così. Questo non era calcolato. Via te. Sono ovunque questi maledetti. È finita? Mi sa che è finita. No, posso salire per di qua. Che dite, è il momento del salto della fede? Ok, e vai, olè. Ok, e mentre torno a casa vi dico che ho farmato anche gli enderman in quella zona lì. Ne ho esattamente 13 e 13, sono stato molto preciso. No, allora, senti, queste quinte ore se le metto qua, esatto. Sì ragazzi, ho dovuto cercare il crafting degli occhi di ender, va bene, non mi giudicate. A posto. Mi sa che Cionco si è fatto male, sì, prima gli è esploso un creeper addosso, però non fa niente, Cionco, dobbiamo proseguire. Allora non è vero, non possiamo ancora andare perché mi servono i letti. I letti sono importanti per l'ender dragon perché non c'ho voglia di mettermi con l'arco a sparaie. Ora sì che possiamo andare, siamo proprio prontissimi. Vabbè, non c'ho voglia di farmi stivali de ferro, andiamo. Ok, allora, mi sa che sono ancora un bel po' distante. Per fortuna me li sta ridando tutti. Vi volevo far sapere che lì c'è un blocco. Soltanto un blocco, non so cosa sia questa struttura. Aio, oddio. Regà, mi sa che ci è andata malissimo con il cazzarola di coso, il portale dell'end, scusa, ma ancora. Cioè da qui non posso neanche più continuare con il mio cavallo Cionco. È scomparso. Madonna mia, che brutta zona, per favore. Allora, adesso anche se sta sott'acqua non è un problema per me. Certo, tra tutti i posti proprio sott'acqua, eh. Puoi dirmi per favore dov'è? Allora, dovrebbe stare esattamente qui sotto, sai. Allora, mi sono inficcato in questo buco, in teoria così sento gente che sta negando malissimo. Dovrei, scendendo appunto, trovarmi la struttura, giusto? Olè. Sì, 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 sì. Ok, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Posso trovarla subito? Non mi piace, ve l'ho detto. È incredibile come io abbia trovato la libreria e non il portale. Bello, guarda, utile. Ok, vedo una lucetta, vediamo. Oh, sì, 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 finalmente. Va bene, allora, questi qui sono dodici. Dodici meno quattro fa otto, io ne ho nove, ok. Me ne è avanzato anche uno, questo qui sì che si chiama Buon Gioco. Porca putta. Mi sono cagato sotto. Me ne è pure avanzato uno, tieni. Per te. Mi sono fatto anche una bella pennichella qui per mettere lo spawn perché è importante. Guarda qui che bel posto caloroso che ho dormito. E possiamo andare. Allora, spero di... No, non ci posso credere. S'ho spawnato malissimo. Ragazzi, non vedo l'Ender Dragon. Madonna mia, che ansia sta cosa. Non lo affronto da... Boh. Ok, ok, ci siamo. Almeno siamo arrivati subito sopra. Dov'è? L'amichetto mio. Eccolo. Io vi giuro che se non fosse stato per cionco il cavallo io avrei camminato per un'ora intera. Me lo sono risparmiato. Allora, come dobbiamo fare questa cosa? Io penso che io debba mettermi tipo qua sopra. Ok. Fare così e poi lui così. Giusto? Non lo so, ragazzi. Non l'ho mai fatto. Vabbè, mo' mi spiegate che è successo. Io non ce la posso fare, ragazzi. Mi sto esaurendo. Allora, voi mi avete visto morire, ma è la seconda volta che muoio. Che succede? Che succede? Che succede? Oh, non lo so. Forse li guardo per sbaglio, però è brutta cosa. È brutta storia. Allora, sta facendo il pazzo. Io ne approfitto, eh. È per for... Vedete, però? Cioè, ma sta cosa che fa? Ma perché succede esattamente? Qui esplodono. Eh, ragazzi, non capisco cosa succede. I led... Mi sa che è troppo basso il drago, sai. Aspetta. Sto perdendo tempo? Ma vedi che mi distrugge il letto? Ma che cazzarola di sfi... Porca... Allora questa del letto non è una tecnica proprio infallibile. Io ho fatto tutto quello che bisognava fare, però a quanto pare il drago va troppo in basso e mi distrugge il letto col suo corpo. Vedete? Ma è troppo vicino. C'ha il piede sopra. Vai a quel paese. Dai, muori. Muori. Fai il bravo. Fai il bravo cucciolone. No. No. Aio. Come ho fatto? Ok. Uno. Due. Tre. Anzi, te voglio ammazzare a cazzotti. Uno. Due. Tre. E quattro. E cinque. E sei. Oh. Ma vanno riammazzato. Te e tutti quanti sti enderman del cavolo. Tuoi parenti. Tutta la famiglia tua. Guarda. Oddio. Ok. Puntavo ai venti minuti. Purtroppo non ci sono riuscito. Ho fatto leggermente di più. Fatemi sapere in che posizione sono. Sono molto curioso. Se tra i primi venti ho i primi ventimila. Anche i primi venti milioni mi va bene. Non fa niente. È stato una tragedia. Non so perché non funzionava niente. Era iniziata benissimo. Veramente. Non so. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Non chiamiamola più speedrun. Chiamiamola run. E basta. Spero, come stavo dicendo, che il video vi sia piaciuto lo stesso. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like. Iscrivetevi. Attivate la campanellina che è sempre molto molto importante. Lasciate un commento. Spiegatemi perché non ha funzionato la cosa del letto. Non so cosa ho sbagliato. Ho fatto tutto bene. E vabbè dai. Ci becchiamo ragazzi. Ciao a tutti. Grazie a tutti.